La mucca Carolina e le lettere di Annibale C'era la mucca Carolina, portare in tavola la carne in scatola era una festa e tutti ballavano il twist Bruno Santini e Alessandro Vini con profumo di boom raccontano gli anni 60 tra spot pubblicitari e mode e si chiedono cosa è rimasto di tutto questo Siamo passati dal twist al twerk, chi c'era negli anni 60 probabilmente ricorda il twist anche perché poi è stata una moda straordinaria tutti in Italia per esempio cantavano il twist da Gianni Morandi a Rita Pavone che prometteva il ballo del mattone al suo fidanzato però come dire il monito era non essere geloso se con gli altri ballo il twist Mina, davvero tutti Peppino Di Capri fino al quartetto Cetra e addirittura ha inciso una canzone ambientandola nel mantovano dove c'era un ciabattino che batteva e risolava le scarpe a tempo di twist quindi chi c'era probabilmente si ricorda il twist però forse quegli stessi non sanno cos'è il twerk è il twerk, bisogna leggere il libro, è il ballo o è stato comunque il ballo di un paio di stagioni molto diverso da quello che è il twist Il viaggio di Profumo di Boom è anche un gioco, quello delle lettere per esempio Siamo passati dal fattore K in un giorno del 62 esce nell'edicole Diabolic con la K e da quel momento cambia il modo di intendere il noir, almeno per quanto riguarda fumetti italiano nascono Satanic, Criminal, Sadic, Killing che era un fotoromanzo ma comunque sempre legato al noir e siamo passati all'X factor, quindi abbiamo cambiato decisamente lettera ma anche il modo di intendere il fattore in questo caso il fattore di successo che lega quelli che sono gli artisti, cantanti e affini insomma siamo cambiati in questi 60 anni Il libro, edito da Sarnus, fa parte della collana toscana da leggere insieme alla Via degli Dei a piedi, edizione di Ciclo C'era una volta un rione a Firenze, edizione Masso delle Fate Condannato a morte di Polistampa e il libro Spazzatura, edito da Fuorionda Spazzatura, edito da Fuorionda